Siamo nel ponente della Liguria, nel comune di Ospedaletti e questo è un intervento a mare composto da tre lotti costruttivi per circa 4 milioni e 300 mila euro di investimenti. Quindi ricostruiamo una nuova difesa a mare di un tratto di litorale molto pregiato, sia con ripascimento che con nuove scogliere a protezione dall'azione del mare. Un investimento molto significativo, due lotti sono già realizzati, il terzo in via di definizione con fondi di PNRR. I lavori riguardano i progetti per la difesa, la resilienza della costa, in particolare anche di quello che è l'abitato e la nostra pista ciclabile. Sono lavori che riguardano sostanzialmente la costruzione di tre moli e il ripascimento delle spiagge tra questi moli. In questo modo abbiamo dato ad Ospedaletti qualcosa come circa 350 metri in più di spiaggia da una parte e altri 140 dall'altra. Riusciamo a rimettere in piedi un litorale che nel 2018 era stato invece oggetto di una mareggiata consistente che aveva provocato parecchi danni. Il primo lotto di 2 milioni e 4 sostanzialmente è già terminato, il secondo lotto che è di 1 milione e 9 ormai è in via di completamento e invece il terzo lotto probabilmente entro giugno del prossimo anno.